Ed ecco un altro esempio di cottura con il Magic Cooker. Qui ho menanzane, zucchine, peperome, qualunque vegetale di stagione. Basta pochissimo olio, il coperchio Magic Cooker, il fuoco basso all'inizio perché tutti i vegetali all'inizio hanno bisogno di un calore moderato, rilasceranno la propria acqua, aumentiamo la temperatura con il coperchio Magic Cooker 5-6 minuti e i vegetali già sono appassiti e iniziano a perdere l'acqua. 10 minuti ed avremo un misto di legumi già cotto. È incredibile la differenza nei tempi di cottura con il Magic Cooker ed è importantissimo sapere che risparmiamo tempo, gas e denaro con l'utilizzo del Magic Cooker. Vi starete chiedendo il...